Buonasera nell'anteprima del Tg di lunedì 15 aprile 2019, parleremo dell'abbattimento in corso all'Acquameno in zona Mezzavia che è iniziato proprio questa mattina, faremo poi il punto della situazione sui 2 milioni di euro che stanno arrivando dalla città metropolitana sull'isola di Ischia per le opere pubbliche, faremo un salto a Procida per scoprire come l'isola di Arturo intende regolarsi anche sulla plastica e poi parleremo di Calcio a 5 e di Pallavolo con l'Ischia Pallavolo che sarà ospite di una puntata speciale di A Bordo Campo questa sera alle ore 21.05 su questa rete. Tutto questo e tanto altro tra poco dopo la pubblicità. Per la cura del tuo corpo scegli il nostro attrezzatissimo centro benessere, la sauna, il bagno turco, le nostre terme, le attenzioni del nostro personale altamente qualificato ed inoltre piscine, solarium, palestra e per i più romantici l'Hotel Solemar organizza presso il suo elegante ristorante cene a tema con serate danzanti. L'Hotel Solemar ti aspetta anche per piccole cerimonie ed eventi. Per informazioni telefono al numero 081 99 18 22 o invia mail a info at hotelsolemar.it L'Hotel Solemar apre a tutti un mondo di emozioni e benessere. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolordoppler, TAC multistrato, dentascan, MOC o zonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Ecorad, il tuo nuovo punto di riferimento per tendo strutture e tende. Ecorad realizza la tendo struttura per ampliare il tuo esercizio commerciale. Lavori anche fuori squadro e con campata senza pilastro centrale. Ampia scelta di tende per giardini e spazi aperti. Ecorad è concessionaria delle principali aziende del settore. Ecorad mette a tua disposizione un'equip di artigiani per adeguare le strutture alle tue esigenze. Ecorad, artigiani per l'ambiente. È un marchio ecoferro. Per il tuo esercizio commerciale, per il tuo giardino, rivolgiti a Ecorad. Mille soluzioni, per offrirti solo la soluzione migliore. A piedi Monte Barano, caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet. Solo da noi trovi la vera mozzarella di bufala ischitana. Ecco le nostre strepitose offerte di aprile. Un chilogrammo di mozzarella di bufala con in omaggio 250 grammi di ricotta e 200 grammi di prosciutto cotto o fesa a soli 13,99 euro. Oppure un chilogrammo di fior di latte e provola con in omaggio 250 grammi di ricotta, 200 grammi di mortadella o prosciutto cotto a soli 8 euro. E poi tantissime altre offerte super convenienti per prodotti di alta qualità. La mozzarella ischitana la trovi solo a Piedi Monte Barano, caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet. Siamo aperti anche la domenica mattina. Trattati da re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te, di ben 2000 metri quadrati, a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa, trattati da re. Ancora abbattimenti, le ruspe all'acqua meno. La demolizione ha riguardato un'abitazione in via Mezzavia sul posto polizia, carabinieri e vigili urbani. Ischia, dalla città metropolitana, 2 milioni di euro per opere pubbliche. Finanzieranno la riqualificazione di Campagnano, la ristrutturazione del campo sportivo dello Spalatriello e il recupero del Verde. Forio, legambiente boccia il piano urbanistico comunale. L'esponente dell'associazione ambientalista isolano, Peppe Mazzara, sottolinea PUC realizzato con poca trasparenza. Faremo ricorso. Procida dal primo giugno, bando ai materiali non compostabili. Lo annuncia il vice sindaco Titta Lubrano che precisa. Sarà un percorso graduale, inizieremo dalle manifestazioni pubbliche. Calcio a 5 under 21, battuto il Benevento, la Virtus Libera Forio vola in semifinale. Traguardo di prestigio per i giovani biancoverdi che superano i quarti di finale battendo i sanniti per 4 a 3 dopo il Tg la trasmissione sportiva a bordo campo. Buonasera, benvenuti alla nuova edizione del nostro telegiornale in apertura alla cronaca con gli abbattimenti. Abbattimento in corso nella zona alta di Mezzavia all'Acquameno ad avere le ore contate, stavolta una casa intera con la ditta incaricata dalla procura che già in mattinata è stata al lavoro. Torna dunque confermando le voci della scorsa settimana l'incubo legato agli abbattimenti. Dopo che nella zona di San Ciro ad andare a terra era stata solo una stanza, stavolta tocca ad un intero immobile. Gli operai hanno iniziato a rimuovere tutti gli infizi e gli elettrodomestici prima di passare alla vera e propria fase di abbattimento. Presenti sia i proprietari accompagnati dai loro legali con agenti della Polizia di Stato, del vicequestore Alberto Mannelli, i carabinieri della compagnia di Ischia guidati dal comandante Angelo Mitrione e i vigili urbani di L'Acquameno guidati invece dal comandante Raffaele Monti. Non si hanno notizie di scontri nonostante l'imponente spiegamento di forze. Questa mattina alle ore 12 si è tenuto l'incontro tecnico presso la sede della città metropolitana di Napoli a Piazza Matteotti alla presenza del direttore generale dottor Cozzolino per candidare i progetti del comune di Ischia per la formazione del piano strategico metropolitano. Il comune di Ischia è rappresentato nella riunione dal sindaco Enzo Ferrandino, dal presidente del consiglio comunale Ottorino Mattera e dall'architetto consiglia Baldino, capo dell'ufficio tecnico, ha candidato delle progettualità inerenti, la riqualificazione di importanti tratti periferici del territorio come la località di Campagnano, il recupero del verde urbano e la ristrutturazione di strutture sportive come quella dello spalatriello. Da maggio prossimo sarà possibile sottoscrivere le convenzioni che consentiranno la cantierabilità degli interventi prospettati. Sentiamo sull'argomento Ottorino Mattera. Dal piano strategico della città metropolitana arrivano 2 milioni di euro per il comune di Ischia. Presidente Mattera, con dei progetti molto ben mirati ed efficaci per il territorio? Sì, come avevamo già preannunciato, alcune di quelle che sono le competenze tipiche della provincia, quindi le strade, la riqualificazione del verde, piuttosto che le scuole e gli impianti sportivi per fare degli esempi che sono delle competenze di natura provinciale, loro avendo potuto recuperare questo avanzo di bilancio che altrimenti sarebbe stato restituito un po' alle altre regioni per il tramite dello Stato, questa amministrazione dei magistri si è riuscita, quello che non è stato speso, a riprenderlo con sé e a ridistribuirlo in maniera equa su tutti i 92 comuni della provincia di Napoli. Dunque, secondo questo riparto spetterebbero circa 100 euro a pro capite per ogni singolo abitante di ogni singolo comune della provincia di Napoli e quindi a Ischia siamo su 2 milioni e qualcosa perché noi superiamo di poco i 20 mila e quindi da questo punto di vista nell'ambito di questi ambiti che abbiamo detto prima, venerdì scorso è stata anche fatta un'aggiunta dove sono stati approvati alcuni progetti, alcuni già nella fase avanzata, altri nella fase preliminare tra cui, ad esempio, se vogliamo elencarli, c'è il recupero di buona parte del verde pubblico, dei Pinete, lo stesso Vivaio è stato oggetto di un intervento di recupero, alcuni tratti delle strade comunali, quelle più o degradate o messe male, ne cito una, quella famosa via vecchia Campagnano, detta Ambrichat, che presenta tutta una serie di difficoltà anche nel transito veicolare, piuttosto che la zona di Campagnano, le aree anche della EC667 con il problema legato con gli sversamenti fognari, quale invece può essere la zona di San Ciro, via delle Vigne, l'area del retrostante pure pubblica che c'è dietro la chiesa, via Francesco, diciamo le traverse che vanno nel, via Antonio Soghiuzzo mi pare si chiama, l'altra che sale dalla località Mandra dove ci sono anche vaste aree di marciapiede di strade poco fruibili e non al meglio certamente della manutenzione e conservazione, e poi lo spalatrello, il recupero di quell'area degradata anche all'utilizzo sportivo multifunzionale oppure il palazzo comunale con l'efficientamento energetico, quindi con il recupero anche di quello, probabilmente una parte anche del palazzo D'Ambra e quindi tutta una serie di cose che verranno messe, diciamo, elencate e date delle priorità alla provincia, le quali le farà proprie. Oggi siamo nella fase, diciamo, l'incontro di oggi è servito per capire con l'ufficio tecnico quali potessero essere gli elementi principali da mettere in campo in modo tale che si facesse una graduatoria che potesse arrivare a coprire la spesa. Ad Ischia, con i tanti lavori in corso, si cerca di migliorare l'immagine del paese, lo sottolinea l'assessore Paolo Fernandino, commentando i lavori a Piazza degli Eroi, la riqualificazione in corso di Ischia Ponte, le opere di via Bonocore, le fogne, l'asfalto sulle strade, i lavori al canalone della Mandra. Su quest'ultima opera, aggiunge, abbiamo inquadrato finalmente la soluzione ed installeremo una pompa di sollevamento per eliminare l'acqua dalla strada. Ascoltiamo. Con Paolo Fernandino per fare un po' il punto della situazione sui vari lavori in corso nel comune di Ischia. C'è la situazione di Piazza degli Eroi che ha visto completarsi un primo importante step e poi sono tanti altri piccoli cantieri in giro per il comune. L'impegno è quello di cercare di allestire il paese in modo più dignitoso possibile per fargli giustizia perché probabilmente il paese è talmente bello che noi altri nel tempo probabilmente abbiamo concorso ad abbrutirlo. Quindi oggi stiamo cercando di recuperare le bellezze, l'essenza, di migliorarle domunque possibile. Piazza degli Eroi una prima parte è fatta e credo che ci si possa anche, non dico complimentare, ma con piacere per quello che è venuto poi alla fine perché abbiamo ricoverato un bello spazio per la piazza. Poi stiamo riqualificando Ischia Ponte per quello che erano i dissesti delle mareggiate del tempo e quindi stiamo qualificando via Buonocore, stiamo risolvendo alcune problematiche tipo il canalone della Mandrea che viene continuamente ostruito dalla sabbia e che ci crea problemi proprio di viabilità e tutto il resto e chi più ne ha più ne metta perché siamo in ogni dove a cercare di lavorare per completare quello che da tempo che è in corso di lavorazioni e che ha bisogno anche di essere ultimato. Vedi le fogne, ci saranno anche altri interventi appena dopo Pasqua per brevi periodi, l'asfaltatura delle strade. Avremo tante cose ancora da fare proprio nell'obiettivo che dicevamo di migliorare l'immagine complessiva del paese, che il turista che arriva trova un'isola ordinata, migliorata e che ogni anno possiamo dargli sempre qualche immagine diversa, migliore del nostro territorio. Turisti ma anche residenti con l'opera del canalone della Mandrea che diciamo che riguarda molto di più il periodo invernale, probabile che riusciremo a dimenticare quelle enorme pozzanghere che si formava lì ad ogni pioggia sostanziosa? Noi ci stiamo provando in verità perché non lo so se lo scioglimento degli acciai che alzano i livelli del mare, se le strade che si distestano, se i canaloni che si ostruiscono per le mareggiate che portano tanta di quella sabbia la muovono in ogni dove, ma certo è che io che poi tra il resto sono presente sul territorio da anni non avevo ancora ben verificato qual era la reale consistenza del canalone, l'abbiamo visto, stiamo cercando di migliorarne e tra l'altro abbiamo messo anche una pompa di sollevamento, stiamo installando una pompa di sollevamento per far sì che tutte le acque che dovessero ristagnare sulla strada anche in brevissimo tempo possono essere rimosse e quindi portate via, quindi stiamo dando quei tocchi e quei ritocchi che servono per cercare di abbattere queste problematiche, risolvere se è possibile, noi ci proviamo, pensiamo di aver inquadrato la soluzione, speriamo che effettivamente sia quella e che sia definitiva in maniera tale che la gente, il paese, l'immagine del territorio ne guadagni e la fruibilità delle strade ne guadagnano tutti, soprattutto i residenti che d'inverno si trovano spesso a dover cambiare strada perché non si riesce neppure a passare. Lega Ambiente dell'Isola d'Ischia esprime il proprio parere negativo sul piano urbanistico comunale di Forio, non è stato realizzato in maniera trasparente, sottolinea Peppe Mazzara ed è stato predisposto per continuare lo sfruttamento di un territorio già saturo, il tutto senza tenere conto della sicurezza rispetto ai problemi legati al sisma o al dissesto idrogeologico. Mazzara annuncia il ricorso di Lega Ambiente contro il PUC così come è stato predisposto, ascoltiamo. Il giudizio di Lega Ambiente dell'Ischia sul piano del Comune di Forio è sostanzialmente negativo ed è negativo per motivi di merito e di metodo. Per quanto riguarda il metodo il Comune di Forio non è stato trasparente nell'elaborazione così come è previsto dalla Regge, nel senso che c'è stata poca attenzione a divulgare il momento preparatorio nel quale devono partecipare, secondo la legge, anche i cittadini. E poco ci è mancato che nessuno si accorgesse che si era arrivati alla pubblicazione e che quindi si doveva correre per fare le osservazioni prima della pubblicazione. Comunque, al di là di questo, il piano per una serie di articoli che noi abbiamo attentamente valutato sembra predisposto più per continuare l'urbanizzazione e lo sfruttamento delle risorse territoriali di Forio così come le vediamo adesso, piuttosto che per un'inversione di tendenza che sarebbe auspicabile vista la situazione oramai satura del territorio. Per anni si è parlato di sacco del territorio, abbiamo sempre affrontato gli argomenti dell'abusivismo con le demolizioni e quant'altro, quindi tu ci dici praticamente che si guarda quasi ad una riapertura verso sempre una espansione, ma verso quale territorio, visto che ormai sembra non esserci più spazio nemmeno per edificare un metro quadro? Esattamente, ci sembra un buon piano degli anni 60 questo, quando il territorio era ancora vergine praticamente dall'edilizia e quindi è un piano antiquato, non è rispondente ai criteri né culturali né materiali di quello che serve, perché adesso a noi ci serve un piano che consolidi e modernizzi quello che magari è stato fatto, ma nello stesso tempo impedisca qualsiasi altra modifica selvaggio del territorio. Un piano che tenga conto, viste le cose che sono accadute di recente, anche della sicurezza, perché di questo poi bisogna anche fare i conti. Certamente, c'è tutta una serie di considerazioni preliminari, cioè io non posso arrivare a fare un piano per un territorio come quello di Forio senza avere chiare delle politiche sulla sicurezza fisica, contro il terremoto, contro il rischio idrogeologico, oppure per esempio anche sulla mobilità, oppure sulla gestione dei rifiuti, cioè tutte queste sono scelte politiche preliminari a un piano che poi dovrebbe in qualche modo solidificare questa idea politica che si deve portare avanti. E dunque legamente in questa fase cosa farà? Allora, in questa fase chiaramente prima di tutto chiediamo un'interlocuzione aperta e pubblica all'amministrazione che sembra un pochino restia effettivamente a apporgerla. In seconda fase valuteremo, perché nel piano ci sono diversi elementi che danno luogo a contrasti con la normativa vigente, quindi nel caso fosse approvato sicché sempliciter noi impugneremo il piano proprio legalmente. A pesca di rifiuti nel Golfo di Napoli la legge salvamare è già realtà. I pescatori della penisola sorrentina e di Ischia già in inverno hanno raccolto tonnellate di immondizie in mare coordinati dalle aree marine protette di Punta Campanella e Regno di Nettuno. Nei mesi invernali numerose cooperative di pesca hanno infatti partecipato al progetto Fishing for Liter, coordinato dalle aree marine protette di Punta Campanella in costiera e Regno di Nettuno nell'isola di Ischia e di Procida. Un'iniziativa per la quale il direttore delle due aree marine, Antonino Miccio, è stato insignito ieri alla mostra d'oltremare del premio Vesuvio Verde, promosso dai Verdi e da Bidonville. Un premio per aver anticipato l'iniziativa del Ministero, cominciando a coinvolgere i pescatori nella tutela e nella pulizia del mare. Sono in via di ultimazione a Procida i lavori di sistemazione del manto stradale nelle zone interessate dalla metanizzazione. Ad esempio via Santissima Annunziata e Casale sono state ultimate come conferma lo stesso sindaco Ambrosino. Un bel lavoro di sistemazione delle strade dopo la metanizzazione. Siamo pronti, prosegue il primo cittadino, per la riapertura. Mercoledì 17 aprile dalle ore 7 verrà ripristinato il vecchio senso di marcia nella direzione San Giacomo, Starza, Ciraccio, Sant'Antonio. Via Vittorio Emanuele intanto sarà percorsa nella direzione Olmo-San Giacomo con le deroghe per il doppio senso dei veicoli a due ruote. Anche Procida ha avviato il percorso per bandire la plastica, ma abbiamo scelto un percorso graduale per sensibilizzare la popolazione ed evitare il forte impatto con il provvedimento, ha sottolineato il vice sindaco Titta Lubrano. Il primo step sarà quello di vietare dal 1 giugno l'utilizzo di questo tipo di prodotti nelle pubbliche manifestazioni. Successivamente si procederà con il divieto alla commercializzazione completa. Ascoltiamo l'intervista. Procida è plastic free. Con Titta Lubrano Lavadera vediamo che cosa è accaduto, che tipo di iniziative avete messo in campo per liberare Procida da questo che appare sempre di più come un grosso problema. Noi abbiamo scelto come amministrazione di seguire un percorso, un percorso che va gradualmente avanzando, prevedendo per adesso un'ordinanza che dal 1 giugno presuppone il divieto di utilizzo di materiale non compostabile nelle pubbliche manifestazioni. Noi a Procida nel periodo estivo abbiamo tantissime manifestazioni a sfondo anche culinario, per cui è importante partire da queste per sensibilizzare rispetto all'argomento. Va detto anche che le maggiori associazioni che organizzano questo tipo di manifestazioni erano già sensibili a questo. Avevano già sperimentato l'utilizzo di materiale compostabile nelle edizioni del 2018 delle rispettive manifestazioni, parliamo di Benvenute State, parliamo della Sagra delle Alici e varie altre. Quindi partiamo da questo step che possiamo considerare lo step 1, che è appunto il coinvolgimento delle associazioni, quindi dei cittadini che sono portatori di un messaggio di ecosostenibilità per poi arrivare, diciamo, nello step successivo a escludere la commercializzazione della plastica sul territorio. Non abbiamo infatti optato per un divieto tucur, che poteva essere quello che magari di un forte impatto, perché io credo, crediamo in realtà, che questo tipo di provvedimento, questo tipo di scelta che incide in maniera notevole sul quotidiano di ciascuno di noi e che poi tra l'altro è facilmente aggirabile, se vogliamo, può avere una ricaduta, una riuscita effettiva e reale, se passa attraverso la condivisione. Quindi se ne parla tanto, grazie anche ai media nazionali, internazionali, se ne continua a parlare nelle nostre realtà, per far sì che, partendo dai ragazzi, coinvolgendo altre fette della popolazione, si possa arrivare poi alla scelta consapevole di non utilizzare la plastica, piuttosto che subire gli effetti molto sacrificanti di un divieto. Non dimentichiamo che i ragazzi di energie sinergiche, che sono coloro che stanno seguendo questi seminari nell'ambito del progetto Benessere Giovani, hanno adottato la borraccia di alluminio offerta dal Cial, proprio a testimonianza del fatto che l'acqua in bottiglia può essere facilmente sostituita da un altro materiale. Quindi il dibattito sul territorio, la convinzione e la condivisione di determinate finalità, a nostro avviso ci può portare ad una reale plastic free del territorio. Si intitola Peter Pan and Special Friends ed è un musical che rappresenta la tappa conclusiva di un progetto ideato dalla cooperativa 12 Stelle San Michele, con la partecipazione di tutto lo staff della cooperativa, dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero e i ragazzi del Liceo Statale di Ischia. Responsabili e coordinatori del progetto la dottoressa Cristina Rontino, la dottoressa Antonietta Verde ed il dottor Francesco Impagliazzo. La sfida che ci siamo preposti è stata di costruire un percorso della durata di circa sei mesi con la rappresentazione finale, coinvolgendo ragazzi speciali e come tutors i loro coetanei, annunciano gli organizzatori. Il risultato di tutto il nostro percorso potrete viverlo con noi mercoledì 18 aprile presso il Teatro Polifunzionale di Ischia alle ore 19.30. Cala il sipario sul campionato della Virtus Libera Forio, parliamo di calcio a 5 di serie C2. Prima di congedarsi il capitano Enzo Coppa e compagni regalano l'ennesima soddisfazione della stagione al mondo bianco-verde, conquistando la quattordicesima vittoria stagionale con un 9-7 sul Pomigliano. Purtroppo le notizie provenienti dagli altri campi non sono quelle sperate, i play-off non si faranno annullati dalla regola che li esclude in caso di distacco pari a 10 o più punti tra la seconda e la terza della classe. Davvero un peccato per la Virtus Libera che avrebbe meritato di vivere anche questa grande emozione dopo una stagione straordinaria. Basti pensare che il mister Monaco e i suoi ragazzi al primo anno di serie C2 centrano la quinta posizione con ben 44 punti conquistati e 114 reti messe a segno. Restiamo nel calcio a 5 nel mondo della Virtus Libera ma nel calcio a 5 Under 21. La Virtus Libera Forio Under 21 riesce nel prestigioso traguardo di centrare la semifinale play-off. davanti ad un palacasale quasi pieno i bianco-verdi si impongono 4 a 3 sul Benevento. La semifinale contro l'atletico Chiaiano si giocherà giovedì 18 aprile al palacasale con inizio alle ore 15. Ma ora vediamo il servizio. Quarti di finale del campionato Under 21 di calcio a 5. Forio e Benevento e il Benevento ad attaccare subito con Pacello che trova il vantaggio della formazione sannita. esulta tutta la panchina ospite anche l'allenatore Paolo Corino per il vantaggio della formazione giallo-rossa. Eccolo il tiro che batte Curci per l'uno a zero ma ci prova subito la Virtus Libera con Zabatta Iacono. Zabatta per l'uno a uno. La rete del pareggio di Francesco Zabatta che riagguanta immediatamente il risultato assist di Tacco di Iacono per Zabatta. Attacca il Benevento stop di suola controllo di suola e tiro di Desimone numero 10 perno della formazione di Serie C1 del Benevento riporta in vantaggio la formazione sannita. Non sarebbero le proteste di Boccanfuso e Curci. Rivediamo l'eleganza del controllo del numero 10 ospite che trova anche il corpo di Curci decisivo nella deviazione. Non riesce però ad evitare il gol. Zabatta generoso il suo intervento. Ne fa le spese anche la porta. Poi c'è un calcio di rigore nel finale del primo tempo. Lo batte Curci. Rigore procurato da Buono. Lo batte Curci. Spreca così. Inizia il secondo tempo. Due a uno. Il punteggio in favore della formazione sannita. Occhio a Buono che conquista un pallone al centrocampo. Buono. Buono. Serve Pesce per il due a due. L'esultanza di Pesce abbracciato da tutti i compagni per il gol del pari. Raggiunge ancora la palità. La Virtus Libera recupero palla e assist per Buono. Gol di Pesce che batte il portiere in uscita. Curci attenzione a Pesce. Ancora lui di tacco. Tre a due. Tre a due della Virtus Libera con il palazzetto di Via Casale che esplode. Pesce che esulta talmente tanto che viene anche ammonito. Eccesso di esultanza per il giocatore della Libera dopo questo gol che porta la formazione di casa in vantaggio. Attenzione però al Benevento. Eccolo ancora Desimone. Il tiro di Desimone. La parata. Ancora Desimone. Il palo e poi il gol. Il capitano è numero dieci del Benevento. Guardate la caparbietà del giocatore con la maglia numero dieci. Prima parata di Curci di piede. Poi conclusione col sinistro. Palo e col piattone destro. Manda il pallone sotto la traversa. Tre a tre. Però Desimone. Follia. Regala il pallone a Buono. Buono che lo punta. Il tiro. Sotto l'incrocio dei pali. Quattro a tre della Virtus Libera. Tiro vincente di Buono nel finale di partita. Ed arriva il successo della formazione foriana che si qualifica alla semifinale. Eccolo il fischio dell'arbitro. Si qualifica la semifinale di giovedì contro l'Atletico Chiaiano. Il Forio Basket è giunto ai playoff. L'obiettivo che ci eravamo posti, sottolinea il presidente Vito Iacono. Ma il patron annuncia non penso sarò ancora in grado di sacrificare il mio tempo. Per questo ho lanciato l'invito a tutta l'isola. Chiedendo di superare invidie e frustrazioni. La prima squadra di basket può rappresentare un modello, un patrimonio per l'isola intera. Ascoltiamo. Parliamo di Forio Basket, lo facciamo col presidente Vito Iacono. Allora, bocce e ferme, però siamo prossimi ad un appuntamento importante per questa squadra. Siamo arrivati ai playoff, che poi era l'obiettivo che ci eravamo posti nel corso dell'anno. D'altronde, questo anno vuole e deve essere una sorta di spot per la pallacanestro nel nostro comune e sulla nostra isola. Per me, ti do un anteprima, non penso che sarò in grado di continuare a sacrificare il mio tempo rispetto a queste dinamiche. L'invito è quello appunto già fatto all'inizio dell'anno scorso, ma che non è stato colto e che almeno per quanto riguarda la prima squadra si trovi una sintesi, vincendo invidie e frustrazioni che anche con cattiverie gratuite quest'anno in qualche modo si è dato sfogo e che in qualche modo la prima squadra sulla nostra isola rappresenta in qualche modo un modello al quale i nostri giovani appassionati di basket possano e debbano riferirsi, perché questo vale per le scuole calcio, vale per le scuole basket, anche la pallacanestro. Non è che può in chiave autoreferenziale rappresentare l'occasione che qualche istruttore, grazie ai contributi dei genitori, vivono nelle scuole basket. Noi ai bambini ai quali insegniamo basket dobbiamo dare un modello di riferimento e dire che se diventano grandi e continuano ad impegnarsi con la passione possono anche giocare a certi livelli e magari andare anche oltre quest'isola a giocare. Noi quest'anno ospitiamo ragazzi di diverse nazionalità. Ritengo che sia un'occasione, quando leggo sul profilo Facebook il nostro capocannoniere e poi il capocannoniere della serie C, richiama le attenzioni della Svon, vedi quanti svedesi condividono i post che li pubblica con i risultati, ritengo che sia un fatto bello per l'isola e quindi questo vuole essere una squadra e un percorso patrimonio dell'isola. Certo se l'isola non la recipirà, non è che posso continuare a fare la mia vita, a vincere i campi, sono anche vecchio per guardarmi indietro e leggere i successi. Non è una provocazione, è un indirizzo che cerco di dare all'intera isola, magari anche pensando a una polisportiva fra le prime squadre, palla a volo, calcio, palla a canestro che insieme in qualche modo definiscano un percorso e diano degli obiettivi a chi oggi a 5-6 anni prende un pallone di basket in mano, comincia a dare calci, ad un pallone vede un modello, un mito, un campione di riferimento che debba essere forza lontano chilometri, lo tiene qua e guarda come si comporta e come gioca, soprattutto come si comporta e lo individui come modello. Questa sera, subito dopo il telegiornale, andrà in onda una puntata speciale di A Bordo campo, tutta dedicata all'impresa della Serie B maschile dell'ischia pallavolo. Con due giornate di anticipo, infatti, la squadra guidata da Francesco Racaniello si è assicurata la salvezza in campionato. Ospiti in studio, oltre allo stesso Racaniello, saranno anche il dirigente Giancarlo Ferrandino e gli atleti Ferdinando Lentini, Gio Siorno e il capitano Gio Romeo. Appuntamento alle 21.05, subito dopo il TG con le successive repliche. Ottima performance per i tre atleti isolani in gara domenica a Castellammare di Stabbia, dove si è disputata la prima edizione del triathlon sprint denominato Delle Palme, poiché svoltasi nella prima domenica che apre la settimana di Pasqua. Ciro Assante della Hermes Campania si è classificato nono assoluto e secondo della sua categoria. Secondo di categoria e quindicesimo assoluto Michelangelo Di Maio della cicliscotto triathlon ischia. Primo della sua categoria e ventitreesimo assoluto Elio Bonocore, anche egli tesserato con la cicliscotto triathlon ischia. Questa è stata la prima delle tre gare di triathlon che si svolgeranno in Campania in questa primavera. La seconda sarà l'ischia sunset triathlon del 12 maggio e la terza il triathlon olimpico di Policastro del 26 maggio. Record personale per Diego Scuotto, attreta del Marathon Club Isola Dischia che ha preso parte alla diciassettesima edizione del Memorial Iacolare. Gara sulla distanza dei 10 chilometri svoltasi a Giuliano, lungo un percorso piuttosto piatto. Il portacolore isolano è giunto al traguardo in 44 minuti e 19 secondi, ottenendo il suo miglior tempo sulla distanza dei 10 chilometri. Un'altra esperienza positiva degli atleti dell'Olympic Judo Forio che hanno partecipato al Trofeo Italia Filcam 2019 a Riccione. Abbiamo di sicuro arricchito il nostro Judo ed il saper stare insieme, ha commentato il maestro Maurizio Bianculli. Diversi gli incontri vinti. Fabio Matera si è classificato al nono posto su 67 atleti. Settimo posto per Cristian Di Maio su 14 atleti ed ottiene punti importanti per la ranking list nazionale. Gianfranco Tranni si è classificato all'undicesimo posto su 63 atleti. Giuseppe Marfitano all'undicesimo posto su 38 atleti. Maria De Girolamo si è classificata all'undicesimo posto su 22 atleti. Ottima gara anche per Maria Verde che non riesce comunque a superare il primo turno. Stessa considerazione anche per Claudio Carta. Mercoledì 17 aprile alle ore 11 presso la sala consigliare del comune di Lacquameno si terrà la conferenza stampa di presentazione del primo degli eventi rientranti nel progetto Incontri nel Verde inseguendo le tracce del passato. Verrà illustrato il progetto ed in particolar modo verranno svelate le novità che interesseranno il museo in occasione della celebrazione dei 20 anni dalla sua inaugurazione. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per domani. Al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni. In montagna bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio sulle coste schiarite con transito di velature sparse. In montagna schiarite alternate a nubi sparse. E questo era il nostro ultimo servizio, siamo giunti alla fine del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che tra poco ci rivediamo in onda qui su Teleischia per uno speciale di a bordo campo dedicato alla salvezza raggiunta nello scorso fine settimana dalla serie B maschile dell'ischia pallavolo che conferma quindi la sua partecipazione per un'altra stagione ad un campionato nazionale. Grazie per l'attenzione, buona serata, non cambiate canale. Grazie per l'attenzione, buona serata, non cambiate canale.